E salve a tutti i principali e bentornati in questo secondo episodio di Satisfactory Allora nell'ultimo episodio praticamente abbiamo Siamo arrivati al livello 2 del nostro hub Road to livello 3 Però praticamente dobbiamo ovviamente iniziare a automatizzare le cose che è l'obiettivo di questo gioco Quindi con l'hub livello 2 abbiamo sbloccato il constructor e con il livello 1 abbiamo già sbloccato lo smelter Quindi noi che cosa faremo? Metteremo da una parte degli smelter che ci faranno le cose per buttare dentro il constructor E farà tutto da solo invece di noi andare qui e farlo manualmente e romperci le palle Sono andato un pochettino avanti da solo Ho aggiunto altre due estrattori più un altro per il copper Visto che il ferro ne raccoglie di meno ed è quello che ci serve anche un pochettino di più Io praticamente qui ho cercato di sistemare un po' il mio inventario Però tanto diciamo forse è stata una mossa un po' inutile perché tanto si smincherà tutto sicuramente E già e me ne sono fatto anche un'altra di scorta in caso ci servisse per non so la pietra o altro Teoricamente ci servirà poi per la pietra Allora praticamente noi per il livello 3 ci serve 10 di concrete che è il cemento 2 reinforce ed iron plate E 75 iron plate Quindi noi non possiamo stare lì a farlo da soli Allora perché arrivare al livello 3? Perché noi abbiamo bisogno del conveyor belt Ne abbiamo davvero davvero bisogno Quindi Noi iniziamo subito Qui abbiamo un bello spiazzo Iniziamo a liberarlo anche da questa roba inutile Teoricamente Ehm Quella roba non Non dobbiamo farci nulla Ehm Qui dovrebbe essere un bel posto per iniziare la nostra fabbrichella Allora Q Abbiamo Dobbiamo iniziare intanto con il nostro smelter Quindi Non so Ah ok Ci servono un po' di Di cose Allora Per lo smelter Ok Ah per il constructor che ci servono? Reinforce ed iron plate E come facciamo a farlo? Ce l'abbiamo L'abbiamo sbloccato qua Yes Ok ci servono Le viti Che si fanno con Ok Ok allora Quindi Abbiamo un botto di ferro Ci siamo preparati Allora Però Prima di tutto Buttiamo via Questo Buttiamo via Quest'altra roba Ok Così abbiamo un po' più di Posticino Allora mettiamoci a craftare Un po' di questa roba Ok così Ok Vediamo un pochettino Possiamo farne due E a noi per almeno un constructor Ce ne servono tre Perfetto Tutto L'ho solo buttato nel culo da solo E due Va bene così Anche se ve ne serviva uno solo È vero Ok allora Il constructor Ci pensiamo dopo Ah le rod Le rod Dimenticavo Le rod Ah no Ne ho 17 Però Mi fa comodo Averne Di più Per fare due smelter Almeno Almeno due smelter Ce ne è bisogno Quindi direi Di mettere Degli smelter Qui Allora Il rosso È l'entrata E il verde È l'uscita E ho sbagliato Allora Aiuto Allora Q Svelter Si girava così Ok Noi vogliamo Che La roba Vada in là Quindi per ora Noi facciamo Così Aiuto Aiuto Uno E Due Subito accanto Che Lo si può mettere Benissimo Così Vorrei essere Ultra preciso Non so se lo sono stato Più o meno Sì Ci siamo Bono Allora Questi sono i nostri due smelter L'altro un po' ce ne entrerebbe anche un terzo Ok E praticamente poi va nel nostro costruttore Quindi ricordiamo Il rosso È l'entrata E per adesso Lo possiamo mettere Non lo so Uno anche Così Giusto Ah ci dà la linea verde Che ci dice che è allineato Ok Tac Bono Bono La distanza Forse è anche Giusta Forse abbiamo anche azzeccato Una bella distanza Allora Diciamo subito A lui Di farci L'iron ingot Quindi noi Gli ne buttiamo Cento Ok Cento è il massimo Mentre lui Ci deve fare il coppere Gli ne buttiamo Cento pure a lui Quindi Abbiamo qua Un power pole Che cosa ci manca Il concrete Ok Per fare il concrete Ci serve La limestone Quindi la pietra Quindi noi andiamo Ok limestone Andiamola a cercare E questa Ah no Ok Cento metri Ma di sotto Ok E quindi poi ci buttiamo Subito Il nostro Affarino Che la piglia Eccola qui Eccola Allora Noi siamo amici Ok Siamo amici Siamo amici Siamo amici Affanculo Dove vai Vieni qua Oh Sronzo Ok Allora Dicevamo Tac Egliela buttiamo Bella so Non c'entro nulla Non c'entro nulla Me ne vado Me ne vado Me ne vado Me ne vado Lascia stare Lascialo stare Vaffanculo Pezzo di merda Allora Dammene un po' Mentre Così Così facciamo il lavoro Insomma Velocizziamo un pochettino Il lavoro Se facciamo così E prendiamo Quella che mi ha raccolto Lui Allora 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 Vediamo se riesco A salire bene Queste prendiamole Perché ci fanno L'energia Ci servono per fare l'energia Questi sono già tutti al massimo Quindi li raccogliamo Così loro vanno avanti Li posiamo nella nostra chest Ne posiamo un pochettino Perché ci fa sempre comodo Averne un pochettino addosso Visto che non si sa mai Quindi Almeno 100 Adosso li voglio tenere Ci servirà anche il copper Da riprendere Però va bene così Per adesso Allora Ehm Dicevamo Dicevamo Ci serviva Quanto concrete Allora 10 Di concrete Ok 1-2 Reinforce Iron plate Abbiamo bisogno Di un sacco di plate Quindi lui Gli diciamo subito Di fare Il plate Ok Oh Perfetto Ah no Ha bisogno del lingot È vero Quindi prima Io dobbiamo dire Di fare Ah no L'iron lingot È vero Ce lo crea Che coglione Ce lo crea quello Ho sbagliato Io ho messo anche il coso Iron plate Ok No power Ah è vero Per fare questo Ecco Per piazzare il pole È vero Coglione sono Ok Ne facciamo Un pochettino Ok Quindi L'energia È là Possiamo Anche benissimo Mettere qui Accanto Per adesso Allora Abbiamo bisogno Di un po' di wire Ah no 17 Su 0 Ok Allora Quindi noi Colleghiamo Da lì A qui Praticamente Il power Will pour Ci splitta Quindi noi Possiamo dare Benissimo 1 2 3 Però noi Siamo bravi E ne mettiamo Subito Un altro Di qua Ok Almeno Il Il quarto Viene occupato Per quello E lo buttiamo Lì Ok Prendiamo Tutte le nostre Foglioline Sbam Che ne abbiamo Un bel po' Anche se non so Se sono un bel po' Sinceramente Gliele buttiamo Tutte qui dentro Ci fa 20 Ogni 0 75 Ora io vorrei Un bel Grafico Però Consuma Giusto Produzione E' più Produzione Del consumo A quanto pare Ok Ci consuma Tante Foglioline Ce ne consuma Tante Però vediamo E' molto veloce Ne ha già Fatti 17 Qui ne ha Già Fatti Un po' Ok Ok Quindi per adesso C'è solo Da aspettare Perché Perché Il concrete Ce lo possiamo Fare benissimo Da soli E ce ne servono 10 Abbiamo bisogno Di 10 concrete Ok 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 Allora Intanto Ho raccolto Altre foglie E Adesso Ci facciamo Ne ho 3 Quindi altri 7 1 2 3 8 9 10 Bono E mi manca Un altro Reinforced Iron plate Di che ho bisogno Dei plate Che glieli facciamo Fare Ok E li facciamo Fare Alla nostra Macchinetta Lì Quindi Bono Ne ho già Fatte Un po' Le prendo E gliene Butto Altre Così Tac E Sbam Ok Quindi Ora Dobbiamo Aspettare Che ne faccia 75 Ok Non ci è voluto Nemmeno Tanto Un minutino Tra me E la macchinetta Lì Quindi Tac Ah già Dove l'ho usato Quel pezzo Ah ok Ancora non l'avevo Fatto 1 No Me ne manca Una Di 74 Su 75 Mannaggia Alla pupazza Dammi qua Dammi qua Bono Poi Già Che non l'ho detto Nel primo episodio Ma questo gioco Sarà anche multiplayer Per adesso no Perché è un po' Buggato Però sarà anche multiplayer Allora Sbam Poi sarà detto Il wire Sarà detto Il concrete E sarà detto Il reinforced Oh yes Grade hub Oh Ottimo 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 Ok ce l'ho nel 3 Nel 4 Ok allora sto facendo un altro po' di plate Perché per fare le belt e il resto mi servono Lui ha finito Ok Quindi Noi che cosa facciamo Allora noi abbiamo questo palo Questo palo ci serve per fare cose Poi tipo fammi vedere Ok ho paura di Non lo voglio costruire Ok va bene Allora vediamo Mi basta Perfetto Quindi Io ho messo la mia Convair belt Quindi vedete Sta uscendo La roba Il super ferro Che poi andrà a finire Lì dentro E quindi farò tutto Da solo Farà Ok Ora non so se ho sbloccato Ah qui ho le rampe Ah Quindi posso farmi le mie case Per adesso Qualcosa Ok Ok E qui Il 4 C'ho lo storage container Quindi mi servono Le rod E un po' di cavi Ok Quindi Le rod Si fanno Con Il ferro normale Ora io non ho lo splitter Giusto Lo splitter Lo Non lo danno più avanti Giusto Eh Mi sa Logistic Eh Si Al 5 Nemmeno Questi non capisco Tier 0 Compute hub Ah ok Poi c'ho altre cose Ok Poi vedremo Vedremo Allora Iniziamo con le cose basi I cavi I cavi Si fanno Con I wire Quindi ho bisogno De Wire I wire Si fanno Con il copper Quindi io ora Devo costruire Altri Altri due Constructor Per il Constructor Ho bisogno Del rinforzo Ed iron plate Quindi Quindi questo Me lo devo fare Un attimino A mano Per adesso Ok Allora Questo Non mi sta facendo Più nulla Perché Ancora non ci ho rimesso La roba dentro Questo mi ha finito Di fare tutti i plate Questo mi dovrebbe aver finito Di fare tutti Il copper ingot E ok Allora Dicevamo di fare Altri Constructor Quindi Ne piazziamo Perché devo pensare Essendo che Io ho bisogno Di fare Mannaggia Perché non mi da Un qualcosa Per vedere Anche quando sono fuori Ma No way No way Figo Pioneer list No vabbè Come funziona Posso scrivere In qualche modo No vabbè No vabbè Ah no Vaffaculo Pensavo fosse qualcosa Invece erano le foglie Di merda Va bene Allora Dicevamo Noi per il livello 4 Abbiamo bisogno Ah Solo delle rod Adesso Ok Rod E wire Quindi Allora Concentriamoci Un secondo Per le wire Quindi Per Allora Allora Prima di tutto Constructor Numero Uno Per le cose Di copper Lo mettiamo Qui Appena dice Che sono tipo Allineato Se me lo dice Va bene Ok Quindi 3 Tac E tac Ok Intanto Metto un altro Po' di ferro Qua Perché L'ho lasciato Tutto Dentro La scatola Perché comunque Ho bisogno Del plate Allora Ok Sta andando Però ancora è vero Noi abbiamo detto Che cosa fare E lui ci deve fare I signori Wire Noi dobbiamo Poi collegarlo A A quello lì Ok Piazziamo Un altro Palo Lo possiamo Ah ci mancano Le rod Ok Mannaggia Le rod Del cappero E ci mancano I signori Wire Ma tanto Ce li sta facendo Lui Quindi Glieli andiamo A fregare Grazie E lo mettiamo Lo possiamo mettere Anche Qui Ah vabbè Sì va bene Anche qua Dai Ok Bono Quindi Questo Sbam E gli diciamo Di andare lì Perfetto Ok E allora Qui abbiamo Quello dei signori Wire E noi dobbiamo andare A fare I cable I cavi Si fanno Con altro So con il wire Quindi Io Lo metto Anche Qui Non tanto distante Stavolta lui Lo faccio allineato Ok Gli diciamo Subito Di farci Il cavo E tac Uno E lo buttiamo Lì Perfetto Guardate che Figata Madonna Lo sto amando Lo sto amando Allora Il mio obiettivo Per ora È riuscire a fare Due livelli Ogni Ogni episodio Quindi vediamo Un pochettino Ora Noi abbiamo Bisogno Di Un altro Smelter Che ce la facciamo A farlo Bono Vediamo appena Mi dice che è Allineato Per fare Una cosa Più Fica Possibile E ho Bisogno Di fare Altre Altro Metallo Super Raffinato Possiamo Subito Farlo Yes E lo Mettiamo Qui Allineato Bono Ok Bono Quindi lui Ci deve Fare Le rod Sarà Detto Svam Ok Così E Lui Ci deve Fare Iron ingot Ora Solo Questi 82 Però va bene E Quello Lì Madonna Che girone Di merda Quello Si collega Qua Perfetto Perfetto Oh Il nostro Amichetto Si sta Avvicinando Che carino Allora Adesso Voglio Provare A fare Una Cosa Ok No Power Ok Ce lo buttiamo Ho Del legno Qui da parte 41 Io Vorrei No di qua Fare il biomasso Con il legno Ne possiamo fare Tanto Ottimo Ok E anche il biomasso Con le foglie Quindi a sto punto Butterei Direttamente Questo Dovrebbe Far Dovrebbe Produrre Più Energia Vediamo 20 E dura Ognuno Uno dura 6 secondi Cazzo Prima durava 075 1 Adesso 6 secondi 1 Ottimo 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 Ok La stessa cosa Posso fare Con le foglie Quindi Posso crearne Un altro po' E Metterlo Direttamente Qui E poi Ce lo veniamo A prendere Ora qui Sistema un po' Il nostro Inventario Qui Qui Sta andando Qui Ha bisogno Di ferro E lì Ha bisogno Di copper Che glielo Diamo Subito Eh Devo saltare Tutto Mannaggia Allora Teoricamente Qua me ne entra Un altro Se voglio Farlo Col ferro Teoricamente Qui Ho un bel po' Ah ok No power Come no power Ah non l'ho collegato Vaffanculo Ok No power Ne stiamo producendo Poca Adesso ne ho due Dovrebbe andare bene No Ah Ah Ok Dammi questi Ok Dovrei esserci Dovrei Mi faccio a mano Due plate Quanti non me li ricordo Forse otto plate Mi pare Devo arrivare a cento Ok E possiamo farlo Possiamo farlo Uno Due Tre E dicevamo il concrete Upgrade hub Boom Livello 4 Ho pure una mail Però voglio vedere Che cosa è diventato Ok Ok Vediamo un pochettino Che cosa abbiamo sbloccato Allora Organizzazione Storage Container Mua Produzione Abbiamo Il miner Quindi Estrae Robe Più roba Con Energia Però noi Abbiamo bisogno Del livello 5 Per fare un Biomass Burner Per avere più Elettricità Quindi Mi devo portare Magari un pochettino Avanti Per fare Tutto questo Dio E sono felice Perché Posso fare così E andare Magari a rimuovere Questa Posso farlo Per adesso Questa non mi serve più Anzi Per ora la metto solo in Standby Ok E Anzi 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 Io direi una cosa Lo voglio fare qui con voi Per farvi vedere Quello che sto facendo Allora F Demoliamo E demoliamo Tutta questa Ok Così più avanti Sistemiamo tutto Ok Ok Io tipo sono qui da 40 minuti Spero di aver esercizio Da tagliare un bel po' Poi di niente Io Come al solito Vi ringrazio della visione Spero che questa serie Vi sta veramente piacendo Quindi non so come stanno andando Non so manco come è andato Il primo episodio Però Io mi sto divertendo un sacco E spero che lo state facendo anche voi Io Come al solito Vi ringrazio della visione E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti